Un clima pesante, pesantissimo quello che ormai si respira ad ogni seduta di commissione. Già ieri un acceso scontro che ha visto protagonisti i consiglieri comunali ha lasciato trasparire quanto a Palazzo Zanca la situazione sia tesa. Anche oggi un nuovo diverbio tra Ivana Risitano e Pippo Trischitta ha dimostrato che l'area che tira all'interno dell'aula del Consiglio è diventata ormai a dir poco irrespirabile. Intanto gli indagati dell'inchiesta Gettonopoli hanno ancora tempo per studiare una strategia difensiva. 3 su 11 hanno deciso di rispondere alle domande della procura. Molti non partecipano più ai lavori di commissione e puntano alla revoca dell'obbligo di firma facendo leva sull'impossibilità di reiterare il reato. Altri stanno raccogliendo materiale utile a dimostrare che nonostante le contestazioni della procura hanno svolto un'attività politica e amministrativa al di fuori delle commissioni consigliari. Il termine fissato per produrre atti o presentare memoria a Palazzo Piacentini è il prossimo 2 dicembre. Intanto il GIP Maria Militello ha respinto la richiesta di revoca dell'obbligo di firma per chi ne ha fatto richiesta. Tutti adesso ricorreranno al Tribunale del Riesame.